Per un lato è stato difficile giocare contro i miei amici, persone che mi hanno dato tanto nella mia vita e che saranno il mio cuore per sempre. Per l'altro lato sono stato felice perché era un'opportunità di vedere questi amici, questi club, di ritornare a Ucrania, ma è stato difficile affrontare Shakhtar e affrontare i miei amici, questi club che, come ho detto, mi hanno dato tanto nella mia vita. Ma sono contento perché sono ritornato a Ucrania, a Kiev, questa è la mia seconda casa. E' stato molto buono anche vederti a voi in questo momento.